Quindi Pippo, ti dicevo, questa versione nuova di Another World, chiaramente è un gioco, però è una piattaforma moderna, e tu l'hai provato su Telefono, no? Su Telefono, su Telefono mi ha dato molta soddisfazione. Il gioco comunque è difficilissimo. Difficilissimo, difficilissimo. I comandi poi, per esempio sul telefono, aveva la difficoltà del comando col touch. Eh beh, certo.